È possibile creare dei video anche senza videocamera. I programmi di gestione delle fotografie permettono spesso di applicare transizioni, zoomate e movimenti alle immagini fisse e di abbinarle a una colonna sonora. Con questi software potete creare facilmente filmati di grande impatto. Vi basta esportare le elaborazioni in un formato video ed eventualmente salvare il file su un DVD. Un altro modo per creare un video a partire dalle foto consiste nel posizionare la fotocamera su un cavalletto. Inserire la funzionalità di intervallo di scatto, di cui alcuni apparecchi sono dotati, oppure scattare manualmente a cadenze fisse e ben definite. Ad esempio, fotografate un soggetto a tutte le ore del giorno. Realizzate centinaia di scatti per poi montarli a cadenze rapide, mezzo secondo tra un'immagine e l'altra o anche meno. Il risultato, esportato in formato video, mostrerà il soggetto che cambia luci, colori, ombre. In alternativa, potete riprendere con cadenze di scatto molto veloci, oltre tre fotogrammi al secondo, con una reflex per esempio, il movimento veloce di un soggetto. Scattando tante foto e seguendo il movimento per un tempo lungo, ottenete un video che ripropone a scatti, ma in modo dinamico, la scena.